musica questa foto è una slide di universi paralleli che si sovrappongono tra di loro l'uomo in nero è Jack Tyler, arbitro inglese, professione macellaio da Litz i due signori in maglia bianca sono due tedeschi della Germania dell'Ovest sì perché siamo in un periodo ancora in cui c'è Germania dell'Ovest e Germania dell'Est quello in scivolata è Uli Enes, mezzala da Ulma, una delle province più a sud della Germania quello indietro che arranca è Berti Fox, classe 1946 da Butgen, oggi nella Germania ma nel 1946 è zona occupata dagli alleati dopo la fine della guerra Butgen è a pochissimi chilometri dal confine olandese tra Michael Dlabach e Colonia al centro della foto Johan Cruyff, classe 1947, figlio della signora delle pulizie dello stadio di Amsterdam che oggi porta il suo nome in realtà questa foto esprime un concetto, anzi la sovversione di un concetto il concetto base è che la storia la fa chi vince vero? Sempre? Anzi no, quasi sempre perché in questo caso la storia l'ha fatta chi ha perso è la finale dei mondiali del 1974 tra Olanda e Germania Ovest non è una partita come le altre, per una serie di motivi quelli più squisitamente tecnico-tattici è perché l'Olanda rappresenta il nuovo il calcio avveniristico, il calcio del futuro, la Germania la solidità del calcio ancora antico campioni ce n'è tanti in campo ma poi c'è qualcosa che va oltre l'aspetto strettamente agonistico sì perché in campo ci sono tutti i ragazzotti nati sul finire degli anni 40 tutti figli della guerra in qualche modo quella stessa guerra che aveva portato l'Olanda ad essere travolta dall'occupazione delle truppe naziste no per gli olandesi i tedeschi non sono avversari come altri quel giorno è il 7 luglio del 1974 siamo all'Olimpia Stadion di Monaco di Baviera come detto è la finale dei mondiali si comincia alle 4 del pomeriggio anzi no, si comincia alle 4 e 5 sì perché succede una cosa strana che in Germania l'apoteosi della perfezione nel momento in cui deve andare in scena davanti a milioni e milioni e milioni di spettatori nel mondo la finale dei mondiali nel momento in cui le squadre scendono in campo e l'arbitre è pronto a fischiare il fischio di inizio il signor Taylor si accorge che mancano le bandierine i tedeschi si sono dimenticati di mettere le bandierine nella finale dei mondiali e questa è una vergogna che si porteranno appresso in maniera importante per loro sarebbe stato meglio probabilmente perdere quella finale è andata così avranno poi dato la colpa a qualche italiano che doveva metterle a parte questo comunque si comincia e qua succede l'incredibile il calcio di inizio è dell'Olanda l'Olanda quell'Olanda è veramente l'espressione del calcio totale cioè a Jengblad importa ha i due centrali che sono due marcantoni a nome Riesbergen e Hahn i due laterali della difesa sono Surbier a destra e Crolla a sinistra in mezzo al campo c'è gente come Van Haneghem Jansen e Neskens in attacco a destra Rep a sinistra Rensenbrink al centro dell'attacco Johan Cruyff il più forte di tutti e non solo su scala olandese ma ormai su scala planetaria visto che sono gli ultimi colpi di coda della carriera di Pelé comincia la partita il calcio di inizio è dell'Olanda la quale Olanda inizia con questa ragnatela di passaggi orizzontali praticamente da fermo senza muoversi andando avanti passando i secondi poco a poco la squadra olandese a poco a poco sempre passandosi la palla in orizzontale si impossessa della melata a campo tedesca i tedeschi rinculano in questo giro palla una prima volta la palla termina sui piedi di Cruyff che sta giocando indietro siamo all'altezza della tre quarti a quel punto Cruyff prende la palla e inizia a fare il vigile urbano si ferma un attimo e inizia a indicare ai suoi compagni dove andare sostanzialmente li fa ancora salire salgono gli esterni e spingono ancora dopo altri due o tre passaggi dopo quattordici badate bene quattordici tocchi quattordici è il numero leggendario di Johan Cruyff la palla termina sui piedi di Cruyff sono passati 45 secondi e ancora la Germania non ha toccato la palla la palla è tra i piedi di Cruyff ma attenzione Cruyff è nel centro del cerchio del centrocampo un po' più avanti ed è l'uomo più arretrato della sua squadra cioè il centramanti l'attaccante di punta è addirittura più indietro dei due esterni dei due centrali di difesa che sono più avanti di lui e lui è l'ultimo uomo Riesbergen uno dei due centrali appoggia ancora la palla a lui che in questo momento è l'uomo più arretrato dell'Olanda lui improvvisamente non asseconda più il giro palla che era andato avanti per 45 secondi e inizia a caracollare in verticale accelera si ferma riparte non lo marca nessuno non lo può marcare nessuno perché è così lontano dall'area di rigore che i difensori tedeschi Berti Fox quello che lo rincorre nella foto in primis non può prenderlo così lontano dall'area e infatti lo aspetta e però c'è un particolare che quando Cruyff parte palla al piede dritto per dritto e prende velocità con le sue clamorose e repentine finte con i suoi cambi di direzione e soprattutto con i suoi cambi di velocità come un elastico non riesce a dare il tempo all'avversario di prendergli il passo e così Johan Cruyff dopo 47 secondi inizia a puntare dritto per dritto verso l'area di rigore tedesca affonda come una lama calda nel burro la foto è chiara è accelerato ha lasciato il suo avversario Berti Fox che ha provato a prenderlo per la strada ma se l'ho visto solo passare accanto e sta disperatamente cercando di chiudere su di lui addirittura la mezzala Uli Enes in ritardo anche lui e un attimo Cruyff allunga la palla Enes è entriscivolata il macellaio di Leeds non può che fischiare calcio di rigore sono passati 56 secondi dall'inizio della finale dei mondiali in casa della Germania e l'Olanda ha a disposizione un calcio di rigore senza che ancora i tedeschi abbiano mai toccato la palla sul dischetto va Neskens qua bisogna aprire una parentesi perché Neskens è stato uno dei più grandi giocatori di sempre del panorama mondiale è passato un po' in secondo piano perché ho fuscato da Cruyff ma gran parte della carriera di Cruyff la stella olandese la deve proprio a Neskens che infatti Cruyff insiste per quanto riguarda la sua carriera dei club per portarselo a Barcellona dopo che lascerà l'Ajax sul dischetto di rigore Van Neskens portiere a sinistra palla a destra Olanda in vantaggio è passato un minuto e 30 secondi e in quel momento per la prima volta un giocatore tedesco tocca la palla durante la finale la tocca a gioco fermo la prende Maier con le mani per riportarla verso il centro del campo e battere la palla al centro sull'1-0 questa è la più grande dimostrazione plastica di superiorità di un di una squadra di un collettivo che non sia dipendente dai risultati sì perché poi quella finale è vero che la vinsero i tedeschi dell'Ovest per 2-1 è vero che l'Olanda quell'Olanda perderà quella finale e poi perderà anche la finale di 4 anni dopo senti contro i padroni di casa in quel caso dell'Argentina ma questo come detto all'inizio sarà probabilmente l'unico caso o uno dei rarissimi in cui la storia la scrive chi perde in questo caso Johan Cruyff guarda 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 il bel pinguino innamorato col colletto duro e con il pezzo inamidato va passeggiando sopra il pack con un'aria molto shit dondolando mollamente di un'aria di un'aria di un'aria Grazie a tutti.